A due settimane dalla chiusura del calciomercato in casa Avellino ci sono state nove operazioni in entrata ed altrettanti in uscita, senza dimenticare che da qui al gong della finestra estiva bisognerà fare altrettanti movimenti, ancora nove suberi da piazzare. Per quanto riguarda il capitolo entrata c'è una sola casella ancora da riempire, un ultimo tassello nella linea difensiva che sarà anche l'unico volto nuovo del reparto arretrato. Il nome è sempre quello di Patrick Ricci, centrale difensivo del Taranto, piede sinistro 23 anni, due stagioni da protagonista Lecco con cui ha vinto un campionato di Lega Pro ed un anno a San Benedetto con Montero. C'è fiducia in casa Avellino con i direttori Perinetta e Condù pronti ad affondare il colpo in ogni momento, del resto il calciatore Scuola Torino ha mostrato gradimento ad un trasferimento all'ombra del Partenio. Sul frontadì è sempre più vicino ai saluti, Rami Ziaia, il difensore reduce dal lungo infortunio e ad un passo dall'addio definitivo ai bianco-verdi. Nel frattempo per Erasmo Ulei, difensore siciliano in uscita alla cui porta, nelle ultime ore a bussare il Taranto, è sempre corso a due tra Pescara e Crotone, anche se sia abruzzesi che Pitagorici per prendere il centrale vorrebbero un maggiore contributo da parte dell'Avellino. Per Pasquale Pane si è fatto avanti l'ambizioso Pompei in Serie D, allenato dall'ex bianco-verde Daniele Cinelli. In stand-by la situazione relativa a Fabio Tito, che ha rifiutato diverse proposte, con Gubbio, Arezza e Ternana, che comunque restano alla finestra. Davide Mazzocco ha detto no alla Cavese nei giorni scorsi e su di lui c'è il Gubbio, ma pare che il calciatore non sia propensa ad accettare la squadra allenata da Roberto Taurino. I rosso-blu hanno sul proprio taccuino anche il nome di Lores Varela. Michele Marconi piace al Pescara e ad alcuni club di Serie D.